Lavori su alcuni passaggi a livello tra Teramo e San Nicolò, dove e quando? Dove? Via Dante Alighieri, il passaggio a livello al centro della frazione di San Nicolò e l'altro, quello qui a Teramo, su Via Nicola Castagna. Sono due lavori per il rifacimento del passaggio, per facilitare e migliorare il passaggio dei mezzi sui due passaggi a livello, erano due richieste importanti fatte sia dai cittadini della frazione di San Nicolò che quelli di Via Nicola Castagna, del comitato di quartiere della Gammarana, che ci chiedevano di migliorare e siamo riusciti attraverso un'interlocuzione importante con il capo compartimento di RFI di Pescara a far rientrare immediatamente questi lavori tra la progettualità e l'esecuzione dei lavori. La notte tra il 4 e il 5 e il 5 e il 6 di settembre, dalle 22 ai 10 della notte fino alle 5 del mattino sarà interessato il passaggio a livello di Teramo e la notte tra il 6 e il 7 e l'8 sarà interessato invece il passaggio a livello di San Nicolò a Tordino. Ovviamente la chiusura notturna agevole e facilita i cittadini per la fruibilità giornaliera ma nello stesso tempo creerà qualche disagio nelle ore notturne. Anche sull'autostazione di Piazzale San Francesco c'è stata l'aggiudicazione o scivolamento della ditta dalla prima alla seconda ditta. In questi giorni mi sono incontrato anche con i progettisti responsabili RUP di TUA, oltre che con la ditta e nei prossimi giorni per quanto mi è dato a sapere dovrebbero iniziare i lavori. Una cosa che ho chiesto con insistenza sia a TUA sia alla ditta è quella di poter iniziare dai servizi igienici perché i servizi igienici sono in una condizione pietosa. Su Ponte San Gabriele continuano i lavori da parte di ANAS che ovviamente dovrebbe ultimare la sistemazione dei giunti prima della riapertura delle scuole. Nei primi giorni di settembre avrò sicuramente un'interlocuzione con ANAS per essere tranquillizzato. Nel momento in cui ANAS ci comunicherà l'ultimazione dei lavori ovviamente oltre a riaprire la strada quindi la fruibilità a doppio senso di marcia del ponte ma ci sarà sicuramente una comunicazione da parte del Comune per avvisare i cittadini che i lavori sono terminati.